buongiorno a tutti sono claudio cassardo il climatologo e meteorologo dell'università di torino che saluta tutti gli ascoltatori e oggi vi vuole parlare di un episodio particolare accaduto lo scorso lunedì 3 febbraio soprattutto in piemonte ma anche in alcuni altri luoghi italiani di cui parleremo e che può essere definito un episodio di fen o favonio da ovest eccezionalmente caldo ma di che cosa si tratta il favonio questo è il nome italiano anche se spesso si utilizza il nome tedesco fen è un vento di caduta caldo e secco che si verifica quando una corrente d'aria svalica una montagna perde l'umidità nel versante sopravvento sotto forma di precipitazioni pioggia o neve e poi perde appunto l'umidità e svalicando la montagna risulta secca e quindi è associata normalmente a cieli sereni basse umidità dell'aria e temperature notevolmente più alte perché la perdita di umidità genera dei processi adiabatici nella fase di salita e di discesa che alla fine riscaldano la massa d'aria il riscaldamento si verifica per lo più nella zona sotto vento e nelle zone limitrofe poi allontanandosi dalle montagne il vento torna a avere una temperatura diciamo normale in realtà il nome favonio definisce soltanto la parte discendente di questa massa d'aria la parte ascendente normalmente chiamata con il nome tedesco stau che significa ammassamento infatti stau in tedesco significa anche coda le code in autostrada ad esempio in la parola italiana favonio deriva dal latino favonius con questo nome i romani chiamavano il vento che poi si è propagato fino a noi anche in tedesco fen significa la stessa cosa far crescere e diciamo il significato si è propagato fino ai nostri giorni quali sono le condizioni favorevoli al favonio normalmente un flusso nord occidentale in quota o anche occidentale come è stato nel caso del 3 febbraio e la presenza di un gradiente di pressione di 10 15 etto pascal con il massimo in francia o anche in svizzera e il minimo sulla pianura padana specialmente piemonte e lombardia cosa è successo esattamente il giorno 3 febbraio la compressione di aria subtropicale già mite in origine perché quell'aria che ha svalicato le alpi proveniva in realtà dall'africa sahariana e ha aggirato l'anticiclone presente sulla spagna passando quindi dall'oceano atlantico attraversando la francia e poi svalicando le alpi si trattava quindi di aria calda infatti a 850 etto pascal cioè circa 1500 metri di quota la temperatura era di 15 gradi un valore veramente alto per il mese di febbraio questo vento nel pomeriggio ha fatto salire la temperatura sul piemonte quasi ovunque a livelli record per febbraio o quasi record ci sono state delle punte superiori a 25 gradi soprattutto nella pianura torinese e cuneese 25 26 gradi in alcuni punti che sono stati osservati rappresentano valori che sono di 17 18 gradi sopra le medie del periodo quindi valori decisamente anomali a torino città per esempio il vento è entrato verso le ore 10 ma 500 metri più in alto era già riuscito a penetrare nella notte in città non ce l'ha fatta perché c'era l'inversione termica l'inversione termica consiste in aria fredda e l'aria fredda non può essere cacciata via direttamente dal dal vento per questione semplicemente di densità e di stabilità quindi il cuscinetto di aria fredda è rimasto al suolo finché la radiazione solare non è riuscita a generare un po di turbolenza e rimuoverlo pensate che alle 8 tra la stazione meteorologica nei pressi del suolo e 500 metri sopra torino c'era un gradiente termico di quasi 15 gradi cioè quasi 15 gradi di differenza tra la temperatura in alto 500 metri sopra la città e quella dentro la città le temperature a torino alle 6 del mattino erano intorno a 6 gradi e alle 3 del pomeriggio erano salite fino a 26.4 gradi che è un valore ripeto record che non è mai stato osservato almeno nella nostra stazione e comunque in gran parte della città i valori di quel giorno sono risultati i record delle rispettive osservazioni la cosa interessante che poi dalle 3 del pomeriggio fino alle 23 23 30 la temperatura è sì diminuita ma soltanto di pochissimi gradi per cui ancora alle 23 di notte si misuravano tra 22 e mezzo e 23 gradi sopra la città di torino valori assolutamente anomali per un mese quale è quello di febbraio ricordiamoci che solo tre giorni prima c'erano stati famigerati giorni della merla che notoriamente indicano comunque la presenza del periodo tra i più freddi dell'anno poi ovviamente verso la mezzanotte il vento è cessato e questo ha fatto rifluire uno strato di nebbia che ha abbassato le temperature riportandole sui valori della mattina precedente intorno ai 5 gradi ma di nuovo alle 8 del 4 febbraio si sono verificati di nuovo un flusso di fan favonico e quindi le temperature sono risalite a 16 gradi valore inferiore perché l'aria di origine stavolta era più fredda non era più l'aria anticiclonica proveniente dall'africa ma veniva dal nord atlantico giusto per fare un paragone l'anno scorso nel mese di agosto a torino soltanto in un giorno il primo agosto ci sono stati valori paragonabili cioè di circa 23 gradi alle 11 di sera a luglio c'è stato circa una dozzina di giorni in cui sono stati superati i 23 gradi alle 11 di sera per dire che quelli sono valori prettamente estivi eppure sono stati rilevati il 3 di febbraio il 3 a febbraio non c'era mai stata una giornata così calda torino da quando sono state misurate le temperature nella serie storica 1753 l'anno di inizio della serie di torino e per molte altre stazioni come moncalieri caselle nei pressi della città di torino anche questi valori rappresentano i record non soltanto per il mese di febbraio ma addirittura per tutto l'anno quindi per i mesi invernali da notare che il fenomeno non ha riguardato soltanto il piemonte ma temperature molto elevate si sono registrate anche in emilia romagna nelle valli appennini che esposta il vento di caduta da sud ovest perché quella era la direzione di incidenza del vento da quelle parti e sono state rilevate anche lì temperature massime di 25 26 gradi nella val trebbia e in alcune stazioni appunto dell'emilia romagna e interessante che invece la pianura spesso era avvolta ancora dalla nebbia per cui c'erano 15 gradi di differenza tra i valori in collina e i valori in pianura del resto la stessa pianura padana è rimasta avvolta dalla nebbia per quasi tutta la giornata per cui in molte località le temperature non hanno superato i 10 gradi quindi in una stessa giornata ci sono state variazioni di 15 gradi all'interno della stessa zona climatica anche la sardegna ha misurato temperature molto alte anche lì per un vento di tipo favonico infatti venti come il favonio e il feng non sono caratteristici soltanto delle alpi ma sono presenti in molte località del mondo sono venti generati dall'interazione del flusso con le montagne quindi in pratica ovunque ci siano presenti delle catene montuose si verificano venti di questo tipo è da notare che oltre al al favonio molto caldo c'è stato anche un altro evento particolare vi ho detto prima che la massa d'aria di origine proveniva dall'africa sahariana e sappiamo che nel sahara c'è il deserto e quindi spesso si sollevano polveri che possono venire trasportate del vento queste polveri hanno praticamente circunnavigato tutta l'area di alta pressione centrata sulla spagna quindi sono passate sull'atlantico seguendo proprio il percorso di quest'aria sulla francia e poi sono arrivate fino da noi in piemonte cioè noi abbiamo avuto polveri sahariana e conventi occidentali hanno fatto un percorso molto lungo e hanno aumentato la torbidità dell'aria tanto è vero che contrariamente a quanto avviene di solito i cieli non apparivano azzurri e tersi come sempre succede in occasione degli eventi favonici ma apparivano invece polverosi e in alcune località di montagna sono anche stati misurati i livelli di polveri molto alte per per il periodo e per la tipologia dell'evento naturalmente la polvere non ha creato nessun problema è solo stato una una bizzarria meteorologica e ed ha confermato la natura subtropicale dell'aria che ci è arrivata addosso questo è stato anche l'effetto che ha massimizzato diciamo il riscaldamento termico che poi è stato registrato in tutte le stazioni di pianura è interessante notare che per la prossima settimana tra lunedì e martedì sono di nuovo previste condizioni favorevoli al favonio e le temperature previste a 850 e to pascal cioè circa 1500 metri sono superiori i 10 gradi quindi ci aspettiamo di nuovo un evento che possa portare temperature come minimo di 20 gradi sulla sulla pianura padana piemontese e tra l'altro c'è di nuovo un gradiente di pressione di 15 e sto pascal quindi abbastanza robusto che favorirà questo tipo di correnti voglio concludere facendo una considerazione di tipo climatico il fan non è un fenomeno che diciamo è presente soltanto adesso ad l'opera dei cambiamenti climatici praticamente credo che anche i nostri antenati che vivevano nell'età della pietra nella nostra regione abbiano sperimentato condizioni di fermo scorrendo gli annali meteorologici di tutte le osservazioni delle serie storiche vengono citati più volte eventi di questo tipo tuttavia in questi anni stiamo notando che malgrado la frequenza di questi eventi sia pressa poco più o meno costante con la solita variabilità interannuale per esempio nella val di susa che è una delle valli più esposte agli alle incursioni di fern si possono verificare soprattutto nella parte alta una cinquantina di casi all'anno di eventi favonici e tuttavia negli ultimi anni si assiste a temperature sempre maggiori cioè ogni volta l'evento favonico si piazza ai primi posti in qualunque stagione ricordiamo che gli eventi di fern possono avvenire in qualunque stagione in teoria anche d'estate in quel caso il riscaldamento non è il fattore determinante ma il vento può portare all'innesco di temporali proprio per la sua differente densità dell'aria in arrivo rispetto a quella stazionante sulla pianura padana e comunque noi notiamo che soprattutto nei momenti invernali questi eventi di fern danno origine a temperature abbastanza alte che portano appunto valori termici non soltanto in pianura ma anche in collina o nelle basse vallate di montagna molto alte il cambiamento climatico sta modificando la disposizione dei sistemi di pressione questo è sperimentalmente riscontrabile facendo ad esempio una differenza tra le configurazioni di pressione medie degli inverni del trentennio scorso rispetto al trentennio in corso questa differenza nelle configurazioni di pressione fa sì che si verifichino condizioni di alta pressione diciamo nel bacino del mediterraneo più frequentemente e quindi abbiamo più possibilità di episodi di fin che possono anche essere più intensi e quindi provocare rialzi termici più sostenuti in questo senso il cambiamento climatico può influenzare anche la frequenza ma soprattutto l'intensità degli eventi di fern che quindi ci aspettiamo possano essere più intensi anche in un prossimo futuro e con questo vi saluto vi ringrazio dell'attenzione e ci risentiamo poi in un'altra occasione buona giornata a tutti grazie a tutti